Con gli strumenti da polso, come ad esempio Garmin Instinct, non sono presenti tutti i profili sportivi degli strumenti da polso di gamma più alta, come ad esempio Garmin Fenix 6. Ma questo non preclude la possibilità di poter creare dei profili a nostro piacere, proprio per poter sfruttare il nostro strumento anche per attività che non sono presenti, ad esempio come lo sci alpinismo. Questa opzione ci permette di creare un profilo, personalizzarlo ed usare il nostro Garmin Instinct per tutte le funzioni, anche se non sono presenti nel menu principale. In alcuni strumenti, come ad esempio Xtint, alcuni profili non sono presenti, ma questo non ci toglie la possibilità di crearli. Impostazioni, Attività e andiamo a introdurre un'attività creata dal nostro menu. Altro, a questo punto possiamo rinominare la nostra attività e in questo caso andiamo a creare un'attività di sci alpinismo. Una volta creata l'attività, la ritroveremo tra le nostre preferite e a questo punto avremo la possibilità di customizzare le pagine dati con le informazioni che ci interessano nel profilo SkiAlp.